Nel momento in cui il segretario federale della Lega, che è il cattivo di turno, sembra che sia il motivo per cui queste persone muoiono, perché è facile dire, ah le persone muoiono, Salvini Becchino, Salvini Sciacallo. Allora, nel momento in cui viene detta, viene fatta il dibattito politico e nel dibattito politico si dice subito che la Lega è Sciacalla, ma la Lega dice semplicemente quello che stanno dicendo gli italiani. La Lega dice semplicemente quello che chi ha un minimo di buonsenso sta dicendo in questo momento, non dobbiamo farli partire, dobbiamo fare i centri di accoglienza lì sul posto e in modo da evitare che i veri sciacalli, i veri trafficanti di esseri umani possano guadagnare. E in modo che non ci siano situazioni di questo tipo, ci viene detto siete degli sciacalli. Allora, se io sono uno sciacallo, io non do del becchino a Renzi, io non gli do del pesce palla, perché dice delle palle cosmiche da due anni a questa parte, e gli do anche del pesce pilota, perché in questo momento lui e Alfano sono i pesci pilota dei trafficanti di esseri umani e sono quelli che permettono a queste persone di speculare sulla vita delle persone.